Ciao ragazzi, prima che inizi il video voglio scusarmi veramente tantissimo per la pessima qualità dell'audio, ho avuto un problemino, in poche parole il mio microfono non ha tanto funzionato durante il video e mi scuso fin da subito per come si sente male l'audio, non me ne ero accorta all'inizio e spero che comunque vi piaccia il video, comunque guardatevelo. bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di NIC908, raga oggi siamo tornati su, no, ma che caspita sto di venerdì, ma siamo tornati, chiaramente non ci abbiamo mai giocato, ciao a felippo, non abbiamo mai giocato, raga oggi vi ho portato un video su minecraft, precisamente sulle bedwars, il server che lo vedete laterale qua, fairgames, raga spero che vi piace questo genere di video sticoletti che il condivio dovete supportarvi lasciando un mi piace, iscrivetevi al canale, attivare la campanellina sui miei suoi vari social e condividere, dovete condividere questo video dove vi capita dappertutto. andrò a fare una partita, ora due, giusto? perché questa è la parola, la cosa bella raga, è il primo video che durerà circa dieci minuti penso, anche forse di più, e lo sto registrando, la cosa bella è soprattutto lo sto registrando da PC, che da me è molto strano, perché io non gioco mai da PC, fino adesso vi ho portato un altro video con l'ordine, ora inizio a portarmi anche questo filmato di video, sempre se lasciate un mi piace, e se apprezzate questo filmato, ditevelo nei commenti. se volete essere salutati in alcuni video, ricordatevi di iscrivermi in direct su instagram, adesso non lo sappiavate già, e di iscrivermi da nessuno, non volete tornare alla lobby per qualche parte del senzio, ecco la tua. ok raga giochiamo tra versus 3, scegliamo team di red, e scriviamo in chat red, così in modo che potete ad accedere al team di red, non si vado neppure, 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 vabbè, comunque riscriviamo in chat anche, salutate, grazie amico minelli, vive il 2, bellissimo, vabbè raga comunque siamo nella squadra dei blu, siamo giusti giusti in 3, ok, ora mi scrivo, io faccio il 1, ok, se per i miei quadri gali forse anche, vado anche a fare il 1, ok, penso che vado neppure, perchè mi sbaglio sempre per un saldo raga, clicco sempre, non clicco ma shift, clicco il blocco dei numeri, blocco delle lettere, non c'ho perso se di oro, non c'ho perso se di oro, e se neanche che facciamo, a capire tutto il mondo di me che lo cazzo, io mi vado fuori, non vado a fare il fondo senza smirare, non cadere, direi di io, mi regalo tutti i fiori, non c'ho perso se di oro, non c'ho perso, non c'ho perso se di oro, ovviamente, ma che non quello che d'eroe, non quello che d'eroe, non c'ho perso se di oro del cazzo, ok, ma perchè Dio ha benedetto lo SHIFT? Dio che benedirò SHIFT, mortica miseria? mi è amore che non avevo l'ora, non mi sono confusione, veramente l'ora in questo tempo e sicuramente l'ho scelto sulla bambina raga comunque voglio avvisare che fra poco a breve mi sta arrivando una webcam e quindi inizierò anche a fare i video con la webcam sembra se mi arrivo in orario e raga vedo tutto e vado a prendere sperardini no raga non ho già stato fatto di tutti che bastardi oh raga lasciatevi qualcosa per me cazzo smelondino tac tac fra fra no 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 non andrete a calma 60 secondi voi avete la botta mi brucia si il tumeretto ma non mi sembra più ragazze il mio compagno è andato a fare il mio timp no vabbè io sono giocato con dei pro raga cioè io sono pro di mio di mio ma questo non è successo se non è l'edito il giugno pretto raga non c'è capitata veramente allora ho 16 quindi mi faccio una bella armatura di ferro permanente raga fatemi prendere qualcosa per me grazie molto gentili ok c'ho 8 di oro prendo la spada e prima cosa prima di fare altre cazzate usare questo smerardo e lasciarmi solo i blocchi allora lana 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 tutta lana lana ok perfetto raga questo è tutto questo è tutto e ok allora mi metto questo gioco così come il letto e magari vanno dei nabini per farci male perchè raga ho visto come il sauna nella lana lana c'era un nabberg entrato insieme a me nell'opetino quindi ora non vorrei giocare con un nabberg con un hacker perchè raga come piaceva saltare sulle scaccionate quando su microsoft è vietato cioè non ci riesco io raga c'è una cosa impossibile da fare quindi quindi cosa quello è un hacker non lo so che cavolo c'ha che minchia c'ha c'ha gesù sull'armatura ma ho sicuramente andato il mio compagno a prendermelo sperare non c'è più guardate è fatta ok e quindi questa è una cosa di rossi molto interessante e allora grazie per il diamantino potrebbe servire solo a me se non si faccio se non si faccio con un nabberg e poi mi trappola la mia storia è un po' smeraldino bellissimo non fa mia male non c'è più non c'è più non c'è più non c'è più e raga se riesco ad arrivare su questo punto l'altro tre smeraldi posso riuscirmi a fare l'armatura in diamante allora 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 oh raga è rimasto uno dei red uno dei grind allora allora raga raga c'è stato un piccolissimo taglietto perchè ho avuto un problema comunque non vi preoccupate nulla di che comunque siamo cercato non vediamo così tutto ma non ho tutto siamo rimasti un red e due gialli e cominciano ad andare su il red non vuole ancora gripare non ho capito perchè nabbo 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 porco due col col due ok raga erano quelli tutto a posto c'è stato quello che ha fatto come è fatto prima ha buttato la cozione dopo è l'ha data a me Stiamo calmi, andiamo semplicemente a prendere una spada, una lana, una lana, una lana, una lana, una lana, una lana. Ah, quello è un amputatore, grazie, bravo. Allora 6 di oro, vado a prendere le frecce. Ok, raga, allora ho preso le frecce, tutto ok. L'unico problema è che ci stanno i gialli che si sono fatti full diamante, io invece sono ancora full nylon, quindi il problema è ben grosso. Poi abbiamo un'altra lana, questo sicuramente se ne è accortato in personale qualità pubblica di Aero, che è fra te e Mattia, che è l'Italia. Brutto pezzo di frocio! Brutto! Dio lì, perché? Sto! No, qua mia, raga, vuol dire? Borda! Allora, raga, è rimasto l'ora red! No, com'è possibile che io non ci hanno ancora vivo? No! No, non è possibile! Non è possibile! Non è possibile che io non sono ancora vivo! È caduto? No, non ci credo! No, non ci credo, non ci credo, non ci credo! Raga, ditemi come si sente lo stando con il microfono qua! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Io non ci sarò qua! Perché non ci sono? Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so meglio! Io sono appavolata anche tutta! Oh mio Dio, quant'erroba! 12.9! 12.9! 2.9! Sono tutti venuti a... Un'altra cosa! Un'altra cosa! Beh, allora, prendo l'arco... Spada, frecce, spada, frecce, spada... Decisamente voglio che mi vado a fare così... ...mettere accanto... ...e prendere le frecce... ...però... ...non è che ho fatto tutto strato perché... ...spada, spada, spada... ...se non deve scappare... ...e probabilmente è anche inutile... ...però non mi interessa... ...allora possiamo prendere le petto d'acqua... ...è bellissimo! Rai! Mamma mia, ma questo quanti soldi aveva! Scusate, si è preso tutto strato! Poi, se chiudiamo, c'è... ...due smiraldi spesi per sta cagata! Quello è scemo! E' una botta! Non le che per me le tengo io... ...l'arco me lo tengo io... ...le fecce le lascio in me... ...e... ...e... ...basta... ...va bene... ...va bene... ...va bene... ...va bene... ...va bene... ...va bene... ...e... ...e... ...questo sarà un punto... ...va bene... ...però adesso... ...e... ...t'io... ...e... ...va bene... ...andiamo... ...le schiamavo... ...quattento su... ...sto... ...sto bendy... ...dio... ...andiamo ad attacarlo! Proprio prossimamente arriveranno anche delle live, ma è mai coglione, successivamente sul canale arriveranno anche delle live, non vi dico quando però a breve arriveranno, non ci sono nessuno al centro, non puoi andare ad attaccare sempre, si... ok, vantimo, la trasmiraldi, 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 si, 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 perfetto ora questa trasmiraldi, poteva all'essenza della mia donna, perfetto, finalmente posso fare l'albatura in diamante torno a casa subito, vado a farmi l'armatura in diamante mi soffi solo molto in faccia mio dio allora item shop armatura in diamante almeno posso uscire tutti quelli che trovo non ho capo, non ho capo, non ho capo non ho capo, non ho capo, non so cosa farci perché il resto non so dove sta non ho capo non ho capo ragazzi non ho capito si è barricato che nobbo allora torniamo ti vado ad attaccare nobbo, ti vado ad attaccare ti vado ad attaccare nobbo ok, torniamo la macchina perfetto che faccio, vado a farmi la scia non ho capito non ho capito capito non ho capito no, no, no questa cosa non mi piace non ho capito non ho capito ma non ho capito No, adesso sono qui. Però dove sto? No, non è possibile. Quanto sto? E' un padre che vuole farlo vedere un po' ma aspetta da un po' se questo fa un po' non so niente perchè non vuole farmi venire qua e prendere una caratteristica affilatizia della spada. Non nemmeno un po' ma devo andare verso la pietra dei giara e in altri momento Pausciò non ci sono diventate di quello ma non ci è passato nessuno non ci è passato nessuno perché in quanto ci siamo devo stare dotando che non ci sono i dialoghi perché io non ci sono passato per te a me lo sentendo che mi starò qua Cosa stai smirando di lui? Vabbè E lui non puoi capire, non stai smirando Stai smirando di lui? Eh, stai smirando di lui Ma non lo so, non lo so Non lo so 55 4, mio Dio Non lo so Non lo so Non lo so Dio Ok, il motore è rinforzata Una trappola Una rigenerazione E il resto Questo Questo Questi Quando non mi servono Ecco, sti ci mando un pezzetto Cosa posso farmi se non Freccia a volontà Non ne sa quante voce riesco a farmi Sì Oddio ragazzi Quattro stacca di frecci Mi sembra sempre normale Anche ho un po' solo di lingotto Potremmeno le mani Si viene a mangiare E è un annuncio Questo è un rinforzo da terra Ah, non si è andato al massimo del ristorante Tutto Tutto No Allora il punto è andato a fine questo E questo è diventato più Però mi c'è scompare Perché adesso Secondo me sono Quest'ultimo 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 Secondo me sta parlando Tutto 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 Allora Di frecce E' calmo Sto facendo Mamma mia Ho visto un'esplosione Ho visto un'esplosione raga Mamma mia raga 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 Sì 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 raga l'abbiamo vinto L'abbiamo vinto Verrà che cosa dirvi Ci vediamo in un prossimo video Ciao